Non so se i poeti del 200 scherzassero, con tutto quel mancante il respiro all'apparire di Madonna. In generale io non so mai se gli uomini scherzino. Certo, scherzo, l'ha mutato mozzafiato i pubblicitari e i giornalisti, ma i poeti del 200 non so. Non so se è tutta letteratura e la vita è un'altra cosa, e se è sempre stato così, ma no idea, è una cosa che non comprendo. Ti ho vista, tra due scaffali in un supermercatino in corso Tortona, alle 6 del pomeriggio di oggi, 9 novembre 2015, e ci siamo detti solo ciao, perché altro non vuoi da me. Ho sentito stringersi qualche cosa all'altezza del cuore, e per alcuni secondi non sono riuscito a respirare. Poi, con un colpo di tosse, mi sono ripreso. Questa è la descrizione corretta, oggettiva, di quanto è accaduto. Non so se i poeti del 200 scherzassero, non so se è tutta letteratura quella che provo in giro, ma tu, a me, il ritiro lo togli davvero. È un dato di fatto, ed è anche un problema reale. Uh!